L'Assemblea, organizzata da Rifondazione Comunista e Sinistra Ecologia e Libertà di Teramo, insieme al Comitato dei Compagni Comunisti per la Liberazione di Davide Rosci, si terrà sabato 18 nella sede del Circolo Teramano di Rifondazione. All'incontro, aperto a tutti i cittadini, interverranno i dirigenti locali dei due partiti di sinistra, oltre ai rappresentanti della FIOM CGL. In occasione della manifestazione nazionale del 25 ottobre, Rifondazione, con la CGL di Teramo, organizzerà dei pullman per raggiungere il corteo a Roma. Noi come Rifondazione Comunista sosteremo, appoggeremo, andremo alla manifestazione il 25 ottobre, convintamente, perché le politiche di austerità che sta attuando Renzi, imposte dall'Europa, sostanzialmente le stanno pagando le classi meno ambienti e i lavoratori e i lavoratrici di questo Paese. In ultimo, infatti, sono gli attacchi all'articolo 18, proprio in questo senso. Per noi, Rifondazione Comunista, non ci sono governi amici che fanno politica a fianco ai lavoratori e ai lavoratrici e quindi manifesteremo in piazza anche contro il governo Renzi.